Sei un consumatore distratto? O fai attenzione a cosa mangi? Pizza, panini, dolci tipici, cibi tradizionali o cibi innovativi? Ti sei mai chiesto cosa possa contenere ogni prodotto alimentare che arriva sulla tua tavola? Non c'è problema, ci pensiamo noi! Ordineremo i migliori prodotti in ristoranti, pizzerie, osterie, locande, locali di street food e... prima di assaggiare faremo elaborare una scheda tecnica refertata da laboratorio di analisi. Beh, sì, alla fine ci sacrificheremo. Mangieremo tutto durante una bella chiacchierata con chi questi prodotti li prepara in cucina. Cosa serve, cosa serve? Vediamo... un telecomando, delle posate e... no vabbè, la tovaglia la porto io.